Quanti formaggi conosci? Scommetto che il formaggio di cui ti parlerò oggi in questa pillola non sapevi neanche che esistesse. Parliamo del formaggio tipico di Branzi. Questo è un formaggio molto grasso, pertanto il suo sapore dolce, morbido, delicato ci conquisterà già dal primo boccone. Al naso si apprezzano note di latte, di burro e di erbe di montagna. Come sempre ti consiglio di assaggiare il formaggio da solo in un primo momento. È un formaggio la cui piacevolezza lo rende veramente perfetto da degustare in solitaria, però può essere anche utilizzato come ingrediente per preparare molti piatti. Nel luogo di produzione, di provenienza, questo formaggio è usato per preparare gli gnocchi ripieni di Branzi, per esempio, o viene utilizzato come ingrediente nella ricetta della polenta taragna bergamasca. Però è anche ottimo, direi, accanto a verdure cotte o nei risotti.